E' puntuale, preciso. Si ricorda sempre di spegnere le luci. Grazie, amore. Non parlavo di te, ma di Nicola. Nicola? Ma deve essere in forma sto Nicola per farsi il giro della casa per spegnere tutte le luci. Ah, in forma, in forma, tranquillo. E poi hai solo da mettere gli interruttori dove servono. E poi scusi, le sembra una gallina? Ma no, amore, anche se guardando bene... E allora, mio bel galletto, perché mi fai svegliare all'alba e non chiudi le tapparelle? Ma se l'interruttore è là... E perché l'hai messo là, sei scomodo? Me la cavo in queste cose? O volevi spostare le pareti? Ma avete provato con Finder Yesli? Finder Yesli. Il sistema che controlla le luci e lecce. E' facile da installare e facile da usare. Yesli. Welcome to Comfort Living. Grazie a tutti.